In cerca del primo successo casalingo dopo sei punti ottenuti in trasferte, la sconfitta interna contro l'Agnone, al nuovo Romagnoli arriva la Tessa Valdisangro, un punto in più del Lupo, Paolucci manda in campo a Scani tra i pali, centrali Cirilli e Maglione, esterni Grasso e De Santis, a metà campo Fazio e Casapulla al centro, laterali De Favetto Odino, in avanti Covelli e Gerardi, parte dalla panchina Teta, arbitro della gara e il signor Casalucci della sezione di Lecce. Parte benissimo il Lupo dopo 20 secondi, Covelli si ritrova solo in aria, Scerbo devia in angolo, passa un minuto e Campobasso trova il gol, angolo dalla destra, stacca Cirilli, palla in rete, Campobasso 1 a Tessa, 0 in rete, il centrale rosso-blu. Al settimo ancora il Lupo in avanti, Gerardi riceve palla, supera un avversario ma solo dinanzi a Scerbo non trova il colpo vincente. Al decimo ci prova Todino su punizione ma senza fortuna. Minuto 18 ancora il numero 11 di Casa Pericoloso, fa fuori un avversario, entra in aria, cerca lo spazio e va al tiro, conclusione ribattuta. Minuto 25 altra, palla, gol per il Campobasso, Covelli lancia Todino che entra in aria, scarica, Scerbo è bravo a deviare il pallone. Al 35esimo però l'ottimo Todino si fa male, al suo posto entra, il Lupo non è stato bravo a chiudere il match, al 38esimo erroraccio di Ascani ne approfitta Miani che ruba palla al portiere, la porta è vuota. De Santi si è costretto a commettere fallo, l'arbitro assegna il penalty, sul dischetto si porta lo stesso Miani che non sbaglia. Campobasso 1 a Tessa, 1 sconsolato, Ascani, maglietta in faccia ma al termine del primo tempo applausi per lui da tutto lo stadio. Il portiere chiede scusa con le immagini, andiamo alla ripresa. Lupo sfortunato al secondo, punizione di Teta sulla palla Maglione, traversa la palla a Covelli, Scerbo respinge ancora Maglione, palla sul palo, incredibile. Ma di più incredibile è la dormita della retroguardia rosso-blu al quinto, Morelli appoggia a Miani che tutto solo, insacca la rete del 2 a 1. Paolucci cambia, fuori fazio, dentro Ferrentino, al ventesimo la Tessa resta in 10, espulso, Scelzo, su proteste, minuto 22, le a Campobasso pareggia, splendido gol di Gerardi ma la rete viene annullata per una posizione di offside dell'attaccante rosso-blu. Al venticinquesimo si rivede la Tessa, punizione di Brak, Ascani devia in angolo, Ascani, bravo, anche al ventottesimo sul tiro cross di Gentili. Al trentasettesimo doppio giallo per De Santis, si tratta della quarta espulsione consecutiva per il Lupo e al minuto 47 la Tessa chiude i conti. Ferrentino a terra, Grieco l'arbitro non ha dubbi e assegna il penalty sul dischetto l'ex Trivento Lazzarini che insacca a Campobasso 1 a Tessa. 3, termina il match, il Lupo vince in trasferta ma in casa conosce solo sconfitte, fischi dalle gradinate e la Nord intona il solito coro, andate a lavorare.